passiamo di qua così ci incontriamo ci incontriamo lino 3 guarda ecco aerone bianco hai visto? quello hai visto? 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 ciao ho 3 sempre grattare avete visto? perché grattano sempre? mi raccomando gratta bene mi raccomando gratta bene ecco vedi? hai ragione sai? io quando vengo qua mi viene tante prurite hai ragione tu di grattare non lo so cosa c'è sono allergica sono allergica nel parco vedi? l'acqua qua non c'è ricambio questo parco rimane così l'acqua non pallude vedi? un pallude vedi? cosa c'è da dire tu? eh andiamo di là va andiamo di là vedi? di là ci sono tanta gente là parco là là vediamo ci c'è e lì cosa c'è? che si muove? vedi? vedi? perché si muove? ci sono dei pesciolini dei pesciolini e andiamo di là che ci sono vedi? delle nutrie è tornato il caldo mamma mia adesso segna 33 gradi 25 ieri che questa mattina quanti erano? 27 adesso in questo momento sono andata via con 33 gradi segnava la farmacia eh e allora vediamo e che